La vaccinazione anti-influenzale in Abruzzo sarà estesa gratuitamente a tutte le fasce d'età, non solo dunque a quelle già indicate nel piano regionale dello scorso settembre che la prevedeva per operatori sanitari, donne in gravidanza over 60 e bambini d'età compresa tra sei mesi e sei anni. Lo ha comunicato l'assessore della salute Nicoletta Verì. Le somministrazioni per ulteriori fasce d'età potranno essere richieste ed effettuate esclusivamente negli ambulatori vaccinali delle ASL, secondo modalità organizzative che saranno definite dalle aziende sanitarie indicate sui rispettivi siti web. L'alta diffusione dell'influenza nella nostra regione e la concomitante circolazione del Covid, ha spiegato l'assessore Verì, ci hanno spinto ad allargare la platea delle vaccinazioni anti-influenzali gratuite, questo sia per rafforzare la protezione ed evitare complicanze relative ad un virus influenzale, quest'anno particolarmente aggressivo sia per semplificare la diagnosi la presa in carico differenziata dei casi sospetti.